25 novembre 1936. Il Terzo Reich e l'Impero Giapponese firmano il patto Anticom Interne, un accordo a carattere prevalentemente politico ideologico. Il patto prevede una cooperazione tesa alla difesa comune contro l'opera disgregatrice dell'internazionale comunista tramite lo scambio di informazioni, pressione sull'opinione pubblica e lotta contro gli agenti comunisti. Il patto prevede anche un protocollo che impegna i contraenti a non rafforzare la posizione dell'URSS nel caso quest'ultima aggredisca uno dei Paesi membri. L'adesione dell'Italia il 6 novembre 1937 farà del patto Anticom Interne il primo embrione della futura alleanza tripartita, che sarà conclusa nel settembre 1940.